Abbraccia tua figlia. Ma che morire è naturale. La città utilizza questo luogo da generazioni. La gente viene a tenerci come dei rituali. Non è una storia attorno al fuoco. Sono sugli alberi qui fuori. Sono avvertimenti. Le tribù li intagliarono prima di fuggire. Temevano quel luogo. C'è qualcosa in quei boschi. Che risale a molto tempo fa. Quei boschi appartengono a qualcos'altro. Qualcosa che... Quel gatto era morto. Riporta chi se n'è andato. George! So cosa pensi di fare. Ma nessuno ritorna come prima. Papino. Luis. Che sta succedendo? Abbraccia tua figlia. Non avrei dovuto mostrarti quel busto. Tua figlia non sarà l'unica a ritornare. La barriera è stata abbattuta. Abbiamo una seconda occasione. A volte la morte è meglio. La barriera è stata abbastanza fletta. Cosa si basici safe? Grazie a tutti.